Ben ritrovati, com'è stato? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like e di iscrivervi da questa parte numerosissimi, mi raccomando, ci tengo tanto, 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 arriviamo a 19.000 iscritti presto, presto, presto. Situazione Milan, abbiamo parlato anche su Milanello, ne parliamo anche qui, sviluppiamo insieme il tutto, lunedì Cardinale è partito, il giorno dopo aver visto la partita con la Roma, verso gli Emirati Arabi per incontrare, ve la dico terra a terra, gli Arabi di Maldini, cioè il gruppo arabo interessato che se dovesse prendere il comando del Milan metterebbe Paolo Maldini come presidente. operativo. Questo significa che la situazione comunque rispetto alle notizie che avevamo raccolto prima di Natale procede, si va avanti, non è interrotta e il dialogo appunto prosegue. Vedremo se porterà a degli sviluppi in tempi medi, ovviamente non nel giro di due settimane c'è il passaggio di consegne in tempi medi, quindi l'obiettivo del gruppo arabo è di fare tutto entro l'estate, bisogna però ovviamente convincere sul prezzo e sul prezzo e sulle tempistiche, perché sappiamo che insomma il discorso stadio per lui sarebbe importante per massimizzare i recavi, ma si possono trovare anche delle vie alternative. Vediamo che cosa succede e vediamo anche la tempistica, perché da questa poi si capisce anche se l'allenatore verrà condiviso, se il mercato verrà fatto oppure no, aspetti che arrivino agli altri, condividi qualche scelta. È un momento particolare, non so se sono così avanti, questo non ve lo posso dire perché non lo so, però insomma il fatto che dopo un mese sia stato Cardinale a volare là, ci fa capire che per Cardinale evidentemente è una trattativa che può essere vantaggiosa. Inizialmente miglioranza, poi maggioranza, subito maggioranza di fronte a offerta shock, lo scopriremo, sta da facendo, sperando che i discorsi non si interrompano magari tra 5 giorni per dire, però la sensazione è che si stia procedendo. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, grazie.